25 anni sono un tratto di vita? 25 anni sono tanti per qualsiasi attività commerciale, specialmente per un'attività commerciale di questo genere dove si vende cose un pochino più strane. 25 anni di fumetti, card, giochi e gadget, la dimostrazione che la passione degli aretini per i fumetti e per la lettura, insomma per questo tipo di pubblicazione e di cultura è più che mai viva. Il negozio che Angelo Rossi e la famiglia fece nascere nel 1993 è diventato punto di riferimento per migliaia di aretini e allora nessuno, tranne i suoi fondatori, ci avrebbe scommesso. Avevo in mente questo progetto culturale innanzitutto, cioè di creare uno spazio per i giovani, per un tipo di cultura pop che era completamente ignorato e non esisteva. È stato uno dei primi esperimenti anche in Italia perché al periodo eravamo pochissimi, c'era qualche negozio di questo genere di grandi città, ma piccoli come Arezzo no, quindi fu una scommessa vinta peraltro, insomma, è molto importante. Non solo fumetti ma anche uno spazio per giocare e socializzare. Tutti i sabati, noi qualunque sabato, da oltre 20 anni facciamo i tornei di tutti i formati di gioco di carte collezionabili come Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon. E quindi anche questo sabato ci sarà questo appuntamento? Sì, questo sabato ci sarà il torneo di anteprima di tuoni perduti di Pokémon che con due settimane in anticipo sulla uscita ufficiale, che sarà il primo di novembre della nuova espansione di Pokémon, noi l'avremo appunto in anteprima e verrà fatto un torneo con tutte carte che tuttora sono fuori mercato. Si chiama Pre-Release.